Guarda se è possibile, usito un luogo lungo perché c'era la mia bianca e scuola. Io, alla metà, alle sette e mezza di mattina, saltavo dal letto con un grillo per accompagnare mio padre che andava a lavorare, gli aprivo la porta e gli baciavo la mano, perché a quei tempi c'era il rispetto per i genitori, si baciava la mano, gli chiudevo la porta e mi tornavo ancora in un'altra volta. Hai capito? Svegliati! E va bene, venga il regno perché se no io mi faccio a primavera! Ha superato! E questa è la cosa che pensi, ha superato, a colazione, a cenno, a pranzo, alzati! Ha superato la mia bianca, tu puoi cercare perché non c'è servito! Ma voi non me la portate dentro dal letto, io non mi ce lo so! No, tutti i sosi perché non andate a cercare la pariata dell'ospedale! A collo! E non capisci! Che non ho fatto il presepe! Non ho capito di muoio! Non ho capito di muoio! Non mi ce lo so! Non mi ce lo so! E già! Come se fosse la prima volta che lo faccio! Io sono stato il padre dei presepe! A me mi animano anche i tuanzini! Ma lì è lui! E dici che non a me è bene! A me non mi piace! Questo lo dici perché vuoi fare il giovane potendo che non piace il presepe! Il superuomo! Il presepe è una cosa proprio bella! E piangere tutti quanti! A me non mi piace! Ma guarda la mia parola! E' un po' di corso! Susana! Hai capito? Susana! Il superuomo! Il superuomo! Alza di bello! Ebbè! Se lui vuoi stare superuomo! E' un po' di rispettare! E' un po' di rispettare! E' un po' di rispettare! Lo stai crescendo da una vera! Come si alza? Alza di bello! Ma si chiama il superuomo! E' un po' di rispettare! E' un po' di rispettare! E' un po' di rispettare! Che ti ha fatto? E' un po' di rispettare! E' un po' di rispettare! E' un po' di rispettare!